Benvenuti all'oroscopo di oggi. Oggi esploreremo le stelle e i pianeti per scoprire cosa riservano per voi. Siate pronti a scoprire le previsioni dell'oroscopo per il vostro segno zodiacale e a farvi ispirare dalle influenze celesti. Preparatevi per un viaggio nell'universo dei segni zodiacali e delle stelle, mentre vi sveliamo ciò che il destino ha in serbo per voi. Segno a liete. In questa settimana, ti si presenta un'opportunità unica per correggere gli errori passati, per fare rettifiche e per ricominciare da te stesso. Le ultime settimane sono state dense di momenti difficili, esperienze che ti hanno fatto percepire la tua forza interiore, ma soprattutto hanno sottolineato la fragilità della vita in determinate situazioni. È stato un chiaro campanello d'allarme sul fatto che tutto può svanire improvvisamente. Non permettere mai che la negatività degli altri calpesti le tue ali. Sii risoluto nel non permetterlo più. Ho sottolineato ripetutamente che la tua priorità in questo momento è recuperare le energie, poiché gli eventi degli ultimi mesi, addirittura da dicembre, hanno creato principalmente complicazioni a livello fisico. Nonostante possa essere stata gratificante l'esperienza, giungi all'inizio di quest'anno esausto, con qualche piccolo disagio fisico. È positivo ritrovare un po' di serenità. Questo periodo potrebbe portare chiarezza nelle relazioni che hanno avuto difficoltà in passato. Alla fine del mese, coloro che hanno deciso di impegnarsi in un matrimonio o convivenza vorranno maggiore certezza. Sebbene tu sembri una persona apparentemente indomabile, è evidente che entro i primi giorni di febbraio sentirai il bisogno di ulteriori rassicurazioni. Segno Toro. Con l'inizio del nuovo anno, è essenziale mostrare intelligenza superiore agli altri e mantenere la calma senza dar soddisfazione a nessuno. Anche se può sembrare complicato, persevera sulla tua strada e concentra la tua attenzione su ciò che desideri raggiungere. Non permettere che i commenti altrui ti feriscano. Non hai ancora una chiara comprensione di come stiano evolvendo le cose sul fronte lavorativo, poiché è probabile che ci siano stati ostacoli esterni. Alcuni potrebbero sentirsi esclusi o affrontare diverse sfide. È come se il riconoscimento non fosse arrivato, soprattutto per coloro che lavorano a tempo parziale o cercano soddisfazioni. La situazione è diversa per l'amore, dove potrebbero emergere emozioni molto particolari in questo periodo. Se siete single, la giornata in arrivo promette emozioni straordinarie. Il vostro magnetismo irresistibile, la positività che trasmettete e la consapevolezza di essere unici saranno i vostri alleati per raggiungere la felicità. La fortuna sorride a nuove opportunità, anche sul fronte lavorativo, aprendo la strada per espandere il vostro network di clienti. Segno gemelli. Recentemente, il tempo sembra scorrere veloce, portando con sé una valutazione profonda di molti aspetti della tua vita, come il lavoro, gli studi, il percorso di vita, l'amore e le relazioni. Focalizzati sui tuoi sogni, poiché questo mese potrebbe rivelarsi una scoperta significativa per te. Puoi affrontare mesi cruciali, poiché le opposizioni planetarie degli inizi sono ormai passate. Questo mese segna l'inizio di una fase di crescita, vantaggi e, soprattutto, di grande creatività e forza mentale necessarie per intraprendere nuove sfide che ti porteranno lontano. Questo si applica anche all'ambito amoroso. Se ci sono relazioni o progetti di coppia da coltivare, è possibile prendere decisioni più significative. Non chiudere le porte ai sentimenti. Il mondo degli affari si presenta con nuove porte aperte, ma è cruciale agire con cautela. Non tutto ciò che brilla è oro, quindi siate astuti e intraprendenti di fronte alle sfide che potreste incontrare. L'oroscopo suggerisce di mantenere gli occhi bene aperti. Segno cancro. Questo è un momento cruciale che avvia una revisione totale della tua vita. Entro la primavera, sarai pronto a compiere imprese straordinarie, recuperando da blocchi o problemi dell'anno precedente. Anche se l'inizio è graduale, i progetti che nascono ora saranno di grande importanza. La situazione legata a questioni legali, economiche e finanziarie non è altrettanto chiara, beh è essenziale proteggersi dai problemi causati dagli altri, come i figli, i parenti o le persone intorno a te. È giunto il momento di agire con uno sguardo rivolto al futuro, ma questa volta in modo concreto. Stai considerando decisioni che potrebbero plasmare il corso della tua vita per sempre. Ascolta il tuo cuore, le emozioni sono la tua bussola. Forza, è probabile che avvengano cambiamenti significativi, rendendo tutto più bello e semplice. Una giornata impegnativa vi attende, ricca di responsabilità. Evitate conclusioni affrettate, mostrate pazienza e sensibilità per superare gli ostacoli e rendere la giornata produttiva. Segno leone. In queste giornate, si prospettano nuove e affascinanti avventure nella tua vita. Da tempo senti il bisogno di qualcosa di stimolante, qualcosa in grado di rompere la monotonia e di farti dimenticare ogni preoccupazione. Il tuo successo sta attirando l'attenzione, anche se ci saranno persone che non gioiranno per i tuoi traguardi. Tuttavia, decidi di ignorare ciò che possano dire. Conosci il tuo valore, al di là delle critiche negative che potrebbero ricevere. Non è garantito che tutti abbiano vissuto una crisi epocale, né che tutti debbano necessariamente cercare un nuovo amore. Tuttavia, sono molti coloro che si sono trovati a riesaminare il modo in cui vivono l'amore, richiedendo ora solo un pizzico di coraggio. Il mese a venire, soprattutto nella seconda metà, sembrerà portare alcuni benefici, anche se in modo graduale. La giornata odierna mette in evidenza la fatica fisica e alcune questioni personali ancora irrisolte. Segno Vergine. Questa settimana si preannuncia ricca di momenti speciali, soprattutto per te. Non ci saranno richieste negative o distruttive, tranne quella di comprendere ciò che veramente meriti e desideri. Una volta che avrai chiarezza su ciò che meriti davvero, su ciò di cui hai bisogno, la tua realtà cambierà radicalmente. Dedica del tempo a te stesso in questi giorni e goditelo appieno. È giunto il momento di permetterti di essere felice. Se possibile, dedica del tempo per concludere affari, risolvere questioni pratiche ed esami. Ciò che rende questi giorni speciali è la possibilità di scoprire nuovi aspetti appassionati in una relazione amicale o di risolvere problemi importanti. In generale, la situazione sentimentale sembra riprendersi dopo un inizio di gennaio un po' spento, quindi, chi è coinvolto in una storia d'amore può continuare il percorso, ma non escludiamo nuovi incontri per i cuori solitari. Le tue azioni passate e presenti rivestono importanza nelle questioni d'amore. Ci aspettiamo anche un buon successo personale nel lavoro entro metà febbraio. Segno bilancia In questo periodo, incontri molto intensi ti attendono con alcune persone chiave. Gennaio si prospetta come un mese cruciale per te, con emozioni forti che si risvegliano e un miglioramento evidente dal punto di vista fisico. Questo benessere interiore si riflette positivamente nell'ambiente circostante. Le emozioni erano sempre presenti, in silenzio, e ora emergono, portandoti a riflettere se sei davvero nel posto giusto. Attraversi un periodo confuso, affrontando una situazione personale impegnativa. Il consiglio è di non affrontare troppe sfide fino agli inizi di febbraio. Anche eventuali difficoltà sul fronte lavorativo, personale o sentimentale devono essere gestite con cautela. È il momento di riesaminare alcune relazioni. I sentimenti possono essersi indeboliti o potresti essere stato coinvolto in incomprensioni, forse anche in difficoltà a livello lavorativo. Non tutte le coppie riescono a mantenere la serenità in questo momento, a causa di interferenze esterne. Credo fermamente che in questo periodo tu abbia bisogno soprattutto di momenti sereni e sorrisi. Segno Scorpione. In questo periodo, avvertirai i primi segnali di forza o almeno un'opportunità di riscatto rispetto al passato. Molti pianeti, entro la fine del mese, si allineeranno favorevolmente, seguiti presto, entro la metà di febbraio, da altri influenti. È un'opportunità di rilancio, per farti notare anche sul fronte lavorativo e nelle relazioni in generale. Ciò che rende affascinante questo oroscopo è la prospettiva di una nuova qualità di vita e il tuo desiderio di costruire qualcosa di bello con le persone a cui tieni. È evidente che chi è solo dovrebbe prestare ancora più attenzione all'ambiente circostante. Non sprecare il tuo tempo, energie e risorse finanziarie in progetti con individui che non condividono il tuo stesso impegno. L'elevato livello di stress che stai affrontando a causa di collaboratori poco dedicati può influire negativamente sulla tua vita. Non vale la pena perdere la pazienza per situazioni del genere. Considera di tagliare i legami o, se desideri concedere un'altra possibilità, stabilisci chiaramente le tue aspettative affinché si impegnino al massimo per non perderti. Segno sagittario. Immerso nelle mille questioni della vita, hai trascurato aspetti fondamentali per il tuo benessere. Questa settimana, riporta l'attenzione sulle tue relazioni e sulle persone che ti sono sempre vicine. Sebbene il passato abbia limitato il tuo godimento del presente, il tuo carattere forte è un dono e la tua mente, seppur complessa, è una risorsa. Concentrati ora su te stesso e condividi momenti significativi con chi ami. Affrontare gli ostacoli è la tua specialità. Il tuo talento nel superare sfide con un grande ottimismo è evidente, ma ora potrebbe essere il momento di concentrarti su risolvere i problemi o di trovare una maggiore tranquillità interiore. Evita di correre troppo veloce, soprattutto quando si tratta di questioni finanziarie. Sul fronte lavorativo, potresti ricevere una conferma ma in modalità part-time. Attualmente, il dilemma principale, che si riflette anche nell'amore, è la difficoltà nel prevedere le emozioni nei prossimi mesi. Segno capricorno. Imprevisti si sono presentati, sfide inaspettate che ora devi affrontare senza farti travolgere. Con responsabilità in aumento, confida nelle tue capacità, saprai gestire le situazioni nel modo migliore possibile. Non trascurare gli ostacoli attuali, poiché da essi possono emergere nuove opportunità. È il momento di costruire qualcosa di significativo, e ora le tue prospettive sono più chiare. Mentre molti cercano di dedicarsi solo alle passioni, potrebbe essere necessario fare una scelta. I giovani potrebbero trovare opportunità con rapporti di lavoro part-time che si rivelano importanti e sicuri nel tempo. Coloro che gestiscono attività familiari vedranno miglioramenti. Considera di accettare una proposta che potrebbe arrivare agli inizi di febbraio. In sintesi, si aprono grandi opportunità per te. Segno acquario. Inizia una settimana carica di turbamenti emotivi. Ti trovi in una situazione dalla quale vorresti fuggire, ma una decisione è necessaria. I tuoi sentimenti hanno subito cambiamenti, e, sebbene evitare di ferire gli altri sia un tuo desiderio, è fondamentale affrontare la realtà. Anche se la partenza può causare dolore, ricorda che evitare di affrontarlo non farà scomparire il dolore, persiste finché non lo affronti e lo lasci andare. Col passare dei giorni riscoprirai la tua motivazione. Il desiderio di cambiamento è forte, e potresti persino valutare un trasferimento radicale o un cambiamento significativo nella seconda metà dell'anno. Tuttavia, è importante avere i giusti sostenitori intorno a te. Le tue idee rivoluzionarie potrebbero non ottenere subito il sostegno desiderato dalle persone che ti circondano. Fortunatamente, molte soluzioni si presenteranno nelle prossime settimane, portando anche miglioramenti nell'ambito amoroso. Segno pesci. Per te è normale attraversare profondi turbamenti e contrasti, poiché assorbi emozioni come tutti i segni d'acqua. Potresti non essere influenzato negativamente da eventi direttamente legati alla tua vita, ma potresti essere colpito da ciò che accade nel mondo esterno. Evita di creare presupposti negativi e cerca di superare un piccolo dispiacere che potrebbe averti ferito negli ultimi tempi. Ritrovare la tranquillità è essenziale, specialmente dopo l'inizio di gennaio. Ora dovresti essere in una situazione migliore. Richiama spesso l'espressione non più, e smetti di metterti da parte. Nonostante tu cerchi di apprezzare gli aspetti positivi della vita, qualche ombra sembra ostacolare il tuo completo godimento. Questo mese, prendi consapevolezza che la realtà potrebbe essere meno rosea di quanto immaginavi. Le responsabilità crescenti stanno minando il tuo spirito. Non permettere che ciò accada, affronta la situazione e non lasciare che il tuo entusiasmo svanisca.